Ciao caro. Perdonami il ritardo nella risposta, ma sai anche che il mezzo elettronico, sia esso telefono web, non è il mio forte. Mi auguro che le tue disavventure siano terminate, o perlomeno ridimensionate. Come ti senti? Nel leggerti, ho ripensato alle tue prudezze estive sulla direttissima. Credo che le tue supposizioni riguardo il fattore stress, siano corrette. Basterà tenerne conto in futuro. Il propra Nolol mi pare un anti-ipertensivo che cerca di fermare il circolo vizioso ansia, ipertensione, ansia. Riguardo Marino? Non ho parole. È un grande. Come sai, ho cambiato l'hosting per caricare i file di Craxi. Speriamo che questo sia più affidabile del precedente. Piano piano mi occuperò di uploadare le compilation precedenti. Non ho più avuto notizie di SuperConnects. Se ti spiego come uploadarlo, eviteresti il costo, e la fatica di spedirmelo, non trovi? Fammi sapere cosa ne pensi. Ti saluto e spero di avere presto tue notizie. Un abbraccio, dopo baci. È un logo azi. Un abbraccio, dopo baci. Un abbraccio, dopo baci. Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie 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 a tutti. Ciao a tutti. Grazie 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 a tutti. e tutti. Grazie a 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 tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti.